Se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane, diceva Pier Capponi nel Medioevo, nel Rinascimento Italiano. Se voi avete il polpo Paul, noi abbiamo Maurizio Costanzo, possiamo dire oggi a proposito di previsioni sui mondiali di calcio in Sudafrica. Siamo stasera alla terz'ultima partita, i giochi sono semifatti, l'Olanda è già in finale e diciamo la verità, la cosa che ha colpito di più è stato il fatto che l'Uruguay a un certo punto si meritasse la partita nel secondo tempo, a sorpresa se volete, ma comunque se la meritasse, come condizioni fisiche, tattiche, spirito e via dicendo. Certo, l'Olanda sulla carta e poi alla fine è più forte, ma insomma l'Uruguay ci è andato vicino. Quanto vicino? Pochi centimetri, cioè un gol in fuorigioco, sia pure minimo fuorigioco che nel campionato italiano spesso non vediamo addirittura, sono stati dati i gol in fuorigioco di tre metri, ma insomma fuorigioco che è stato ignorato dall'arbitro e dai guardalini e dagli assistenti di fascia e l'arbitro era niente di meno che l'Uzbeko che aveva arbitrato la prima partita, la partita inaugurale ed era considerato fino a ieri il miglior arbitro in circolazione, tutti erano il miglior arbitro dell'Asia, uno dei migliori arbitri del mondo, a dimostrazione che poi alla fine per vincere un campionato del mondo o per perderlo, tante volte bastano quei centimetri, basta un arbitro che non l'ha visto e la vera domanda di fondo che va bene per i mondiali, ma va bene per il campionato italiano, va bene anche per le cose non calcistiche nei rapporti con la giustizia, potrebbe essere la seguente, ma se fosse capitato all'Uruguay quel gol in fuorigioco, sia pure, ripeto, parzialissimo, minimo e via, sarebbe stato concesso oppure no? Basterebbe che uno fosse certo della risposta sì, sarebbe stato concesso anche all'Uruguay, come tante volte all'Inter, al Milan recentemente negli ultimi anni, alla Juventus per anni, insomma basterebbe che il metro di misura fosse lo stesso, persino nell'errore, perché quello è un errore dell'arbitro, allora se si sbaglia per tutte e due un conto, se si sbaglia in modo iniquo di forme, allora diventa un'altra cosa e quindi ritorniamo al discorso delle tecnologie, della moviola, di tutta una serie di cose di cui io farei volentieri a meno, visto che il fascino del calcio è quello di essere più o meno lo stesso da sempre, anche se si gioca molto peggio che in passato, il problema è che così però il sospetto è troppo forte, sono cresciuti troppo gli interessi intorno al calcio, il calcio giocato è un pretesto di tutto il resto, la politica se lo mangia letteralmente quando serve, l'economia pure e tutto dipende dal fatto che poi l'arbitro si sbaglia o non si sbaglia o le assistenti si sbaglino di 5 cm di fuorigioco, capite bene che la cosa è curiosa, ripeto, mi basterebbe che la buona fede fosse garantita nell'errore, non nel far bene, bensì nell'errore e stasera giocano Germania e Spagna, il polpo Paul, come dicevo il cugino del nostro Maurizio Costanzo per la prima volta pare che abbia dato sfavorita nelle sue strane elucubrazioni con i tentacoli, abbia dato a favorita la Spagna e questo è già un segno, o il polpo ha trovato motivo per favorire la Spagna, per chi pare che adesso non vi sto a spiegare quello che succedeva in questo giardino marino di Oberhausen dove opera questo polpo tedesco, ma insomma o ha trovato qualche motivo di particolare interesse nella vasca della Spagna oppure più probabilmente il polpo se ne intende di calcio, se ne intende almeno quanto la categoria che si occupa di solito di calcio, quindi il polpo Maurizio Costanzo e la categoria sono praticamente nello stesso giardino marino. Allora che succede stasera, visto che poi interessa una previsione, succede che a fatica vince la Spagna secondo me, a fatica perché la Germania la conterrà bene, sarà brava a farla stancare, però insomma la qualità dei giocatori della Spagna se entrano in campo con la testa giusta dovrebbe alla fine in qualche modo padroneggiare la vivacità, la giovinezza della Germania e riuscire a tenere la partita in equilibrio risolvendola magari alla fine. Non mi meraviglierei né dei supplementari né dei calci di rigore, l'unica cosa di cui mi meraviglierei in questa situazione è un risultato netto a favore dell'una e dell'altra. Ecco questo proprio non ce lo vedo.